Si compiaceva di quello che faceva. Dagli atti depositati da IPM impressiona in particolare una delle intercettazioni su Sandro Cataldo, marito della ormai ex assessora regionale Anita Mauro di Noia. Ti è piaciuto come ho fatto la giunta? Dice Cataldo nel corso di una conversazione parlando proprio della nomina del vice sindaco. E non è la sola in cui si esprime così. In un'altra è al telefono con l'ex sindaco di Polignano, Domenico Vitto, arrestato quest'ultimo nel 2021 ma in un'altra indagine. Per presunti appalti truccati. I voti comprati dall'associazione di Cataldo non sarebbero però serviti solo per Trigiano, Grumo Appula e le regionali del 2020 ma avrebbero permesso l'elezione di sua moglie Anita Mauro di Noia anche al Consiglio Comunale di Bari nel 2019. La personalità di Cataldo è stata definita dalla GIP Paolo Angela De Santis dalla proclività delinquenziale e i presunti affari illeciti dell'uomo e dei suoi proseliti avrebbero intrecciato negli anni anche altro tipo di vicende, da certificati medici falsi a presunte interferenze con i vertici della ASL per ottenere avanzamenti di carriera in favore di amici in cambio di visite mediche per i propri familiari. Cataldo e i domiciliari a lunedì sarà interrogato insieme al sindaco di Trigiano Antonio Donatelli. Entrambi si trovano agli arresti domiciliari per corruzione elettorale dal 4 aprile. Il sindaco di Trigiano è stato già sospeso dal prefetto. Dieci gli indagati sottoposti a misure cautelari. Di questi, Nicola Lella e Armando De Francesco, interrogati venerdì, si sono avvalsi dalla facoltà di non rispondere. Intanto, sull'assessora dimissionaria, Anita Mauro Di Noia, pende lo stesso capo d'accusa. Dalle intercettazioni è emerso che gli interlocutori fanno espresso riferimento al sistematico versamento di somme da parte della Mauro Di Noia nel corso della competizione elettorale del 2019. Dalle intercettazioni è emerso che gli interlocutori fanno assicurare il nostro corso della competizione elettorale del 2019.